Sostenibilità sociale e ambientale sono da sempre pilastri fondamentali del Parco Commerciale Gli Orsi di Biella. Numerose infatti sono le azioni attuate dal centro al fine di rendere la propria struttura sempre più green e ridurre il proprio impatto ambientale. Parlando di ecosostenibilità, gli orsi si contraddistingue per l'utilizzo di acqua delle falde e acqua piovana nel irrigare le aree verdi, limitando in questo modo l'utilizzo della preziosa risorsa dell'acquedotto locale. Inoltre presta attenzione alla raccolta differenziata con un incremento costante del tasso di riciclo. In tema energetico, il Parco ha da poco finalizzato l'installazione di 3.000 nuove lampade con tecnologia LED per ridurre il fabbisogno energetico. Parallelamente è stata anche promossa la mobilità sostenibile grazie alle postazioni di ricarica per veicoli elettrici. Gli Orsi dunque tiene fede a tutte le promesse fatte per il miglioramento dell'eco-efficienza strutturale e delle attività svolte. Infine, con la campagna promozionale, durante il mese di ottobre, il Parco Gli Orsi propone un'iniziativa che unisce shopping e sostenibilità, chiamata Più Shopping Più Green. Dal 6 al 30 ottobre, tutti i giovedì e le domeniche, sarà possibile acquistare un carnet di buone spese del valore di 50 euro al costo di 25. E per partecipare, basta consegnare alla postazione in galleria dalle 11 alle 13, dalle 17 alle 20, uno o più scontrini del giorno in corso, per un totale di almeno 20 euro.